Non ho il coraggio di avvicinarmi alle donne! Cosa ti intrettiene? Ho uno stipendio troppo basso per renderle felici! I soldi non fanno la felicità! Voglio aprirli la cena! Prepara la casa tua! Vivo con i miei genitori! Voglio vivere da solo! Soffre di crisi di panico! Iscriviti a un corso di yoga! Ho uno stipendio troppo basso! Sono le tue imperfezioni che ti rendono unico!